Delia Duran è tornata al GF VIP 6. Questa volta per avere un confronto solo con Soleil sorge. Alex Belli è rimasto in casa. Mentre l'ex corteggiatrice di U&I è arrivata in studio. Ovviamente, c'è stato un duro confronto tra le due. La moglie dell'attore è apparsa davvero furiosa. Ma la sua scelta non ha convinto per nulla le due opinioniste. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Anche Alfonso Signorini ha dovuto riprenderla. Quando ha affermato che la colpa è soprattutto di Soleil. In quanto è una donna che starebbe provocando un uomo. Prima che avvenisse l'incontro tra la Duran e la Sorge nello studio. La Volpe ha già espresso la sua opinione. Non so questa storia con Delia sia vera. L'opinionista ha dei sospetti sul rapporto di Alex e la moglie. Anche perché in questi giorni gira voce che potrebbero non essere realmente sposati. Ed ecco che Soleil è approdata in studio e ha avuto il suo confronto con Delia. La GFina si aspettava di ricevere delle scuse dalla moglie di Alex. Dopo la passata lite. Ma la Duran non è apparsa per nulla disposta a scusarsi. Anzi. Sei stata tu a creare questo teatrino. Sei stata tu a provocare mio marito. Ha dichiarato Delia. Dopodiché. Le ha fatto notare che da amica avrebbe dovuto respingere Alex. Visto che fuori è impegnato. Le voci di entrambe si sono sovrapposte tra loro e signorini e dovuto anche intervenire per riportare la calma. La Duran è convinta che Soleil sia una manipolatrice e una stratega. Nonostante ciò, da donna a donna, ci ha tenuto a far presente che la sorge è molto bella. Dall'altra parte, la GFina l'ha invitata a pensare a meno a lei e più a suo marito. Cerco di aiutare un amico e cerco di spiegarti che Alex non ha fatto nulla di sbagliato. Io neanche. Ha provato a spiegare Soleil. Delia le ha anticipato che il suo lato, latino, potrebbe presto uscire fuori. Visto che è sudamericana.